Insomma, un pizzico di preoccupazione in più, mentre vedete che nel sassuolo sono pronti ad entrare due giocatori. Cosa ha visto Gervasoni qui che non va? Che è successo? A colloquio con Constante. Allora, vediamo un po', Popi Bonnici, vediamo un po', Constante prende palla, la butta lui fuori, ne vuole un'altra. Ah, e poi spizzito la lancia in tribuna, viene allontanato dal direttore di gara, Gervasoni, l'ha mandato via. Rosso? Non si è ben capito anche perché la reazione di Constante è stata... Forse dalla reazione di Constante insulti razzisti, perché insomma anche quel pallone... Non so, razzisti, non ho sentito per la verità, però... Nemmeno io ho sentito, ma la sensazione, da quanto è arrabbiato Constante, che se ne vuole andare, da come ha lanciato il pallone in tribuna e da come il direttore di gara sta andando lì verso il quarto uomo, la sensazione è che Constante, non abbiamo visto cartellino rosso, abbia sentito qualche cosa di poco piacevole dalle tribune. Constante ha preso la via degli spogliatori e se ne è andato, eh? No, che è espulso! No, che è espulso, sentite, no! Non è espulso, è lui che se ne è andato! Siamo dentro la reazione che non si è seguita! Oh! Siamo dentro la reazione che non si è andato!